La Gammaton nasce nel 1969 e nel 1971 inizia la sua attività produttiva, diventando il primo sito in Italia ad utilizzare la tecnologia dei raggi gamma, al fine di sanificazione e sterilizzazione dei prodotti. Partendo dal presupposto che l'irraggiamento è un processo che avviene dall'esterno verso l'interno, minore sarà lo strato di materiale che i raggi devono oltrepassare, maggiore sarà l'uniformità di assorbimento della dose. Per questo motivo in Gammaton non irraggiamo il bancale intero, ma inseriamo i colli in appositi convogliatori, riducendo così lo spessore che i raggi devono penetrare, ottenendo di conseguenza una riduzione della forbice che intercorre tra il punto di minore assorbimento e quello di maggior assorbimento, assicurando quindi un'omogeneità nella distribuzione della dose. Grazie a tutti! Grazie a tutti!